Mi chiamo Amira Vengo da Roma e suono il violino da quando avevo 5 anni Ho scelto il violino perché penso che tra tutti gli strumenti sia quello che riesca ad esprimere a meglio tutte le emozioni dell'animo umano Proprio per questo ho deciso di suonare questa sera Meditation dall'opera Thais di Massene Perché penso racchiuda sia dei momenti di riflessione che altri momenti di impeto che soltanto l'animo umano riesce a trasmettere Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!